Benvenuti a Chiaro Quotidiano, una notizia in un minuto. Manca più di un anno alle elezioni regionali della primavera del 2024, ma è già iniziato il toto candidati. Se il presidente Marsilio ha già detto di essere pronto al secondo mandato, nel centro-sinistra da settimane circolano nomi. Il primo è quello di Silvio Paolucci, attuale consigliere regionale del Partito Democratico ed ex assessore regionale alla sanità nella giunta d'Alfonso. L'outsider è Francesco Menna, sindaco di Vasto. Contattato da Chiaro Quotidiano ha detto voglio continuare a fare il sindaco, ma se la mia comunità politica e i vastesi me lo chiedessero ci penserei. Per il Movimento 5 Stelle circola il nome del coordinatore regionale Gianluca Castaldi, che non chiude la porta a un accordo sui programmi col centro-sinistra, ma precisa che rispetterà il limite dei due mandati, quindi non sarà lui il candidato. Insomma il Totocandidati è solo all'inizio.